E' un'azienda storica nel cura auto e nella manutenzione dell'auto. Però Arexons ha in realtà due anime, noi non solo gestiamo l'auto in tutta la sua interezza nella manutenzione e nella cura dell'auto, ma abbiamo anche una gamma di prodotti per il fai da te, di uso sia professionale che consumer. Vorrei iniziare a parlarvi proprio della gamma auto. Noi siamo qui in Autopromotech per promuovere il rilancio della nostra gamma professionale. E' una gamma professionale che contiene una rinnovata gamma dell'olio che copre tutto il parco auto circolante più tecnologiche. Inoltre abbiamo tutta una gamma professionale di attitivi che aiuta il consumatore a preservare il motore, la cura del motore, ma soprattutto a far risparmiare anche carburante. Noi offriamo la possibilità ai nostri clienti di fare formazione ai meccanici perché puntiamo molto sulla qualità del prodotto e la conoscenza del prodotto per poterlo promuovere e utilizzare correttamente. Quindi puntiamo questo tipo di servizio. Da ultimo abbiamo introdotto la gamma degli oli trasmissione cambi automatici con un servizio a 360 gradi che offre anche la macchina per pulire e fare il cambio dell'olio e con diverse giornate di formazione per formare meccanici all'utilizzo corretto non solo del macchinario ma della scelta corretta dei prodotti da utilizzare. Come dicevo Arexon sa due anime e quindi ha anche un'anima più votata nel DIY. Abbiamo marchi iconici come Svitol che stiamo rilanciando e ampliando in termini di gamma e abbiamo un altro marco iconico che si chiama Fulcron che è nato come sgrassatore professionale, conosciuto ai più e utilizzato anche dai meccanici che stiamo allargando a un'intera gamma della detergenza professionale per dare sempre un servizio di alta qualità ai professionisti della detergenza. Arexon sa forti programmi sia in ambito professionale che in ambito consumer ed è qui in fiera per rilanciare le proprie gambe e i propri servizi.